Cosimo commisso dall'ergastolo alla scarcerazione, assolto dopo 26 anni dopo 5 omicidi relativi alla faida di Siderno. Altro provvedimento del consiglio dei ministri sciolto il comune di Careri, presunte infiltrazioni mafiose anche qui. Ponte Allaro, tavolo tecnico, ecco come si procederà, il guado è quasi pronto. Intervento del prefetto di Bari al giornale. Marina di Gioiosa Ionica, sospensione dell'illecito ingombro, sospese per 5 giorni alcune attività commerciali. Neve e gelo, sorridono solo gli albergatori invernali, scuole e università chiuse in Calabria. Carabinieri più vicini ai cittadini, report dal comando provinciale di Reggio Calabria della Benemerita. Bentrovati giornale di Telemia, dopo 5 omicidi relativi alla faida di Siderno dopo 26 anni, viene scarcerato Cosimo Commisso. Accusato di essere il mandante di 5 omicidi e di 3 tentati omicidi, tutti architettati nell'ambito della cruenta faida di Siderno, che infuocò la Locride tra gli anni a cavallo tra il 1989 e il 1991, Cosimo Commisso era stato condannato al carcere a vita dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, con una condanna resa irrevocabile il 12 maggio 1999. Dopo 26 anni di carcere, iniziati nel 1993 a seguito dell'operazione denominata Siderno Group, un'indagine congiunta della Procura di Reggio Calabria che coinvolse diverse famiglie considerate mafiose del territorio. Commisso è stato assolto con la formula per non aver commesso il fatto e quindi subito rimesso in libertà. La Corte d'Appello di Napoli, infatti, in funzione di giudice della revisione, ha accolto i motivi dell'istanza presentata dal 68enne. Ha revocato dunque la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, che all'epoca dei fatti condannò l'imputato all'ergastolo, quale mandante degli otto fatti di sangue, perché ritenuto persona collocata in posizione verticistica della gerarchia mafiosa del clan. Dopo quasi tre decenni passati in regime di carcerazione, Cosimo Commisso riabbraccerà dunque la sua libertà. Una giustizia tardiva e che stravolge un quadro ritenuto schiacciante per tanti anni. Neve e gelo in tutta quanta la Calabria, con scuole e università chiuse. Un'irruzione di aria artica ha raggiunto la nostra regione. Perturbazione cominciata l'altra notte quando il Cosentino è stato raggiunto da un'intensa nevicata, compreso il capoluogo di provincia e rende. I sindaci delle due città hanno disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresa l'Università della Calabria, in cui sono state bloccate lezioni e anche appelli d'esame. Oggi saranno invece chiusi gli istituti scolastici di Serra San Bruno, Mongiana, Fabrizia e Nardo di Pace. Non sono mancati i disagi per quanto riguarda la viabilità. La strada statale 107 Silana Crotonese è chiusa al traffico da ieri sera a causa di una frana caduta sulla carreggiata. Il percorso alternativo è costituito dall'autostrada del Mediterraneo e dalla strada statale 283. L'ANAS rende noto che sono già in corso sul versante roccioso le ispezioni da parte del proprio personale che ieri sera, a causa della pioggia e dell'oscurità, non era stato possibile avviare. Un incidente stradale si è verificato la scorsa sera sulla strada statale 106 in località Copanello, nel comune di Stale T. Tuttavia il fenomeno meteorologico ha portato anche la felicità dei molti sciatori che hanno preso d'assalto gli impianti sciistici calabresi, precipitazioni che interesseranno anche il fine settimana in tutta la Calabria. Andiamo al Ponte Alloro. Ieri in conferenza il prefetto di Bari ha spiegato lo stato dei lavori in atto e il guado dice è quasi pronto. È un fermo burocratico. Voi ben sapete il tavolo tecnico prefettizio è stato un tavolo che io ho istituito mesi fa di monitoraggio proprio dei lavori sul Ponte Allaro perché c'è un disagio diffuso da parte della popolazione che in parte abbiamo anche contenuto con una serie di misure con il percorso alternativo che attualmente è vigente. Per quanto concerne i lavori principali, quello cioè sul Ponte Allaro, non c'è stata nessuna sospensione dei lavori né un'interruzione. C'è stato un problema tecnico così come ci è stato assicurato oggi dall'ANAS e cioè che l'azienda che sta realizzando i lavori per conto di ANAS ha voluto una diversa trivella che arriverà entro una decina di giorni e quindi il cronoprogramma del Ponte Allaro non subisce nessun ritardo. Il guado, i termini sono per mese di marzo, però è probabile che i lavori potrebbero terminare anche qualche settimana prima. Quel disagio che oggi comunque sussiste in quell'area del territorio non ci sarà più perché il guado consedirà di sostituire temporaneamente il Ponte Allaro a tutti gli effetti. Siete soddisfatti delle risposte emerse dal tavolo? Noi vogliamo anzitutto dare atto al signor Prevetto che il monitoraggio su cui si è rimpegnato lo sta esercitando con solerzia e con costanze e soprattutto con efficacia. Quest'oggi abbiamo considerato quello che è lo stato dei lavori. Attualmente i disagi quali sono? Attualmente si vive ancora lo stato che c'è l'alternanza con il semaforo del traffico e poi sull'unica corsia assistente c'è stata la deroga per i mezzi di trasporto pubblico locale, però tutti gli altri mezzi che superano le 7,5 tonnellate non possono transitare. E' chiaro che il traffico veicolare di commercio, di forniture eccetera vive una grande frenata perché il percorso alternativo è di 18 e più chilometri. Come rappresentante delle comunità locali non pensa sia il caso di rilanciare alla luce anche del dialogo intrapreso con ANAS la necessità di una nuova 106 o di migliorare la viabilità? Lei ha centrato il punto. Io ritengo che tutte queste difficoltà scaturiscano dal fatto che la 106 con quei ponti secolari è l'unica arteria di collegamento costiero. Se noi avessimo avuto dapprima un'altra corsia, diciamo una quattro corsia come nella circonvallazione che è stata fatta per Roccella, Gioiosa e Siderno, noi avremmo ammortizzato con minore disagio questo momento di difficoltà. Quindi nella prospettiva ritengo che come Comuni dobbiamo rinalzare e riproporre il tema di una 106 modernata con percorso totalmente alternativo. Questa cosa ci consentirebbe anche in casi di episodi acuti come i cedimenti di un ponte e di non rimanere con i collegamenti totalmente interrotti. Altra mannaia sui Comuni Calabrese. Un altro Comune è sciolto per mafia, questo è quanto deciso dal Consiglio dei Ministri che ha sciolto anche il Comune di Careri. È stato sciolto per Drangheta il Comune di Careri. Questo è ciò che è emerso dal comunicato stampa redatto dopo la riunione di ieri del Consiglio dei Ministri. Un Comune di poco più di 2.000 abitanti, situato nell'area metropolitana di Reggio Calabria, che su richiesta del Ministro degli Interni, Matteo Salvini, ha decretato lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del Consiglio Comunale della Cittadina, l'ennesimo nella nostra Regione. All'esito degli accertamenti della Commissione d'Accesso sono emerse dunque forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che da quanto detto rischiavano di compromettere il buon andamento dell'attività amministrativa, a norma dell'articolo 143 del Decreto Legislativo del 18 agosto del 2000. Decade il sindaco Giuseppe Giugno che era stato eletto nel 2014 e la gestione del Comune sarà dunque affidata per 18 mesi a una commissione straordinaria. Andiamo al porto di Gioia Tauro che continua a far registrare numeri in sensibile calo. L'eterno malato della Calabria, il porto di Gioia Tauro, continua a dare segni negativi. L'ultimo dato, quello dei volumi, testimonia ancora una volta la non ripresa. Nel 2018 si è registrata una perdita secca del 6% rispetto al 2017. Il dato non è ancora ufficiale in quanto si aspetta la certificazione di Eurocai, il gruppo tedesco che controlla Conscip Italia e che gestisce lo scalo calabrese in società con TIL. Numeri ufficiosi dunque, ma la verità non si discosterà di tanto se non sarà confermata in toto. Tradotti in numeri significa che nel 2018 il terminal gestito da MCT ha movimentato quasi 150.000 teus in meno rispetto al 2017, continuando a registrare perdite importanti da 10 anni a questa parte. Nel 2008 infatti si è passati dai 3.800.000 teus agli attuali 2.300.000 dell'anno appena trascorso, uno scalo che soffre in questo momento di mancanza di investimenti e ammodernamento dei mezzi di banchina che vengono utilizzati per spostare i container dalle navi quando queste attraccano nel porto di Gioia Tauro. I mal di pancia arrivano soprattutto da MSC, unico cliente e socio dello scalo gioiese. L'aspetto particolare in questa vicenda è che MSC, con il suo armatore proprietario Gianluigi Aponte, sarebbe disponibile ad investire per ammodernare gli equipaggiamenti dello scalo calabrese. Si parla di nuove gru per le banchine e di nuove carrelli che spostano i container all'interno delle banchine. Investimenti che erano previsti nell'accordo quadro nel 2016 ma che ancora sono rimasti lettera morta. Ma a questi buoni propositi manca la decisione di Eurocai, il gruppo che controlla lo scalo gioiese. A questo si aggiunge l'ultimatum del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli, che in visita qualche settimana fa allo scalo gioiese, aveva detto a chiare lettere o con ship investe o procederemo alla revoca delle concessioni. Nei prossimi giorni è prevista la riunione di Eurocai e a quel punto si capirà cosa vuol fare il gruppo con il grande malato calabrese, il porto di Gioia Tauro e a un bivio. La legge BOVA è stata presentata anche a Roma, sentiamo in questo servizio ricordando anche i particolari contenuti di questa nuova proposta BOVA. Si è tenuto a Palazzo San Macuto a Roma, sede della Commissione parlamentare antimafia, un altro appuntamento della conferenza dei presidenti delle assemblee legislative regionali incentrato sul tema dell'antimafia. A partecipare per conto della Calabria il consigliere regionale Arturo BOVA, presidente della Commissione contro l'Andrangheta in Calabria e promotore del testo di legge di contrasto alla criminalità organizzata più nota come legge BOVA. Al centro dell'appuntamento romano il confronto con il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia e i componenti della Commissione sui temi su cui proprio la legge BOVA in Calabria ha introdotto importanti novità, dal contrasto al caporalato, alla lotta all'usura e al gioco d'azzardo patologico. Sono orgoglioso, ha detto BOVA al termine dell'incontro, di poter rappresentare la mia regione in un contesto istituzionale così importante e di poterlo fare portando come contributo al confronto un provvedimento concreto che proprio l'Assemblea regionale calabrese per prima in Italia è riuscita ad approvare. Si tratta di un provvedimento molto apprezzato da tutti i presenti all'incontro odierno, ma sono ancora più orgoglioso di aver potuto esporre oggi il progetto di legge nazionale che ho depositato lo scorso 7 gennaio e concernente l'affidamento prioritario degli appalti sotto soglia alle imprese che denunciano il racket mafioso. Una legge che una volta approvata costituirà un incentivo alle imprese affinché perseguano sempre la legalità e soprattutto non si sentano sole e abbandonate dopo aver denunciato la criminalità organizzata. Troppo spesso le imprese che denunciano infatti, anziché trarre vantaggi e benefici dalla loro lodevole condotta, non solo subiscono le nefaste conseguenze della ritorsione mafiosa, ma addirittura finiscono con l'essere escluse proprio dal sistema di lavoro che con il loro gesto volevano tutelare e preservare. I presidenti delle altre commissioni regionali antimafia non solo hanno espresso compiacimento per l'attivismo legislativo della Regione Calabria in materia di contrasto alla criminalità organizzata, ma hanno già assunto l'impegno di depositare presso i rispettivi consigli regionali il medesimo testo di legge proposto in Calabria dall'onorevole Bova al fine di conferirgli maggior peso e spessore. L'augurio ha concluso il presidente Bova e che adesso la proposta di legge avanzata possa presto essere discussa e approvata dai consigli regionali prime e dal Parlamento poi, così che si riescano a dare risposte concrete a quelle imprese che hanno creduto nello Stato anziché piegarsi alle richieste delle mafie. Tutto quello che è stato firmato dopo il 7 di dicembre dall'ex commissario alla Sanità Regione Calabria Scura non sono validi. Questi i primi atti del nuovo commissario Cotticelli. Il primo decreto del nuovo commissario Cotticelli e di Schell scompaggina le carte dei tetti di spesa della sanità privata. Tutto andrà rivisto a tempo debito. Degli uffici della cittadella regionale, dopo gli incontri in pompa magna delle precedenti giornate, è arrivato ieri il primo sigillo ufficiale della appena insegnata struttura commissariale che di fatto boccia gli ultimi atti arrivati a tempo scaduto dall'uscente Massimo Scura. Il DCA opera su più livelli. Innanzitutto modifica il precedente decreto 174 che stabiliva il nuovo schema tipo di contratto che le ASP firmano con tutti gli operatori privati della sanità calabrese. Scura aveva fortemente voluto l'eliminazione della prorogo anno dopo anno delle convenzioni. Quindi prima del 31 dicembre dovevano essere puntualmente riscritte. Cotticelli e Schell invece per quella valere per il 2018 un via eccezionale hanno deciso di prorogarle fino al prossimo 28 febbraio. Il tutto per garantire la continuità assistenziale. Una posizione che ricalca una circolare diramata ai vertici delle aziende sanitarie provinciali un paio di settimane addietro. Annullati inoltre tutti gli atti firmati dall'ex commissario dopo il 7 dicembre. Insomma se il passaggio di consegne fra strutture commissariali era stato cordiale tra Scura e l'ex generale il primo atto di quest'ultimo lascia intendere altro. A questo punto Cotticelli e Schell, codiovati dal Dipartimento tutela della salute all'interno del quale al momento operano avranno circa un mese e mezzo di tempo fino alla fine di febbraio per stabilire e rimodulare la spesa per l'acquisto delle prestazioni dai privati. Questa mattina dal libero abbiamo appreso che in Italia comandano i terroni. Si fa per dire abbiamo appreso un tre su quattro, scrive il noto quotidiano nazionale che comandano in Italia, sarebbero meridionali. E la cosa è impazzata sui soci, sentiamo un po' le reazioni che nel meridione ci sono state. Comandano i terroni ai meridionali tre cariche istituzionali su quattro. Questo è il titolo di apertura che si legge oggi sulla prima pagina di Libero, il quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Si fa riferimento alla regione di provenienza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ovvero la Sicilia, al fatto che il Premier Giuseppe Conte sia pugliese e che il Presidente della Camera Roberto Fico sia invece nato a Napoli. Un titolo che ha immediatamente fatto scattare la polemica. Tra i primi a scagliarsi contro il giornale c'è il Vice Premier Luigi Di Maio che dalla sua pagina Instagram ribadisce l'intenzione di togliere i finanziamenti pubblici al quotidiano. Questa è la preziosa informazione da tutelare con i vostri soldi, ma tranquilli, abbiamo già iniziato a togliergliene da quest'anno e nel giro di tre anni arriveranno a zero. PS, anche questa volta l'ordine dei giornalisti rimarrà in silenzio. E questo infatti quanto ha scritto Luigi Di Maio. Ma Di Maio non è l'unico a reagire stizzito. Un titolo vergognoso ai tanti di noi era chiarissimo che saremmo arrivati a questo punto. Uno schifo. E quanto scrive infatti su Twitter la senatrice Teresa Bellanova. Infuriato anche il web, su siti e social si susseguono commenti di lettori indignati e pensare che a scrivere l'articolo incriminato è stata proprio una giornalista meridionale di origini calabresi. La firma è infatti di azzurra Noemi Barbuto. L'autrice dell'articolo ci tiene a chiarire. Sottolineo questo trend con fierezza perché sono terrona anch'io, pur non essendo una tifosa del derby nord-sud. Probabilmente però chi ha titolato l'articolo ha dimenticato che il termine terrone è catalogato come un insulto razzista, un'ingiuria. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. In conferenza stampa il comandante provinciale dei Carabinieri, Reggio Calabria Giuseppe Battaglia, ha spiegato tutti i risultati ottenuti dalla benemerita nell'anno appena trascorso 2018. Come ogni anno il comando provinciale Carabinieri di Reggio Calabria ha tracciato un bilancio dell'intenso lavoro svolto. In questi ultimi 12 mesi di attività sono molte le difficoltà superate e i successi conseguiti a dimostrazione della costante operosità dei Carabinieri di questa provincia. I numeri, nella loro asciutta sinteticità, manifestano la costanza dell'impegno dell'astituzione non solo sul piano della repressione dei fenomeni criminali ma anche sul fronte della prevenzione. I risultati raggiunti sono incoraggianti, l'elevato numero di servizi esterni, dei controlli su strada, degli arresti in flagranza sono il segno di un'opera che si sostanzia in fatti concreti. L'arma garantisce infatti un servizio di pronto intervento in grado di gestire le migliaia di chiamate pervenute nel 2018 al numero di emergenza 112. Nel corso del 2018 il gruppo Carabinieri Forestali di Reggio Calabria ha effettuato oltre 5.000 controlli, segnalando 300 persone, elevando oltre 400 contestazioni amministrative per un valore complessivo di quasi 700.000 euro, effettuando 48 sequestri penali e 129 amministrativi. Il nucleo operativo ecologico di Reggio Calabria ha effettuato invece 68 controlli, segnalando 67 persone all'autorità giudiziaria, contestando 52 sanzioni e 4 sanzioni amministrative, effettuando 25 sequestri penali, tra i quali immobili, per un valore complessivo di 2 milioni di euro. Il nucleo antisofisticazione e sanità durante l'anno appena concluso ha effettuato 725 ispezioni, denunciato 99 violazioni penali, 184 contestazioni amministrative, elevato contestazioni per ammontare di 478.000 euro, effettuato 38 sequestri penali e 93 amministrativi, nonché 11 sequestri di strutture per un valore complessivo di oltre 19 milioni di euro. Il nucleo ispettorato del lavoro ha effettuato invece 192 ispezioni, controllando oltre 550 posizioni lavorative. I controlli effettuati hanno rilevato 124 posizioni lavorative in nero, 22 lavoratori irregolari, 2 lavoratori clandestini. Grande è anche l'apporto dello squadrone riportato Cacciatori Calabria, che lavora in stretta sinergia con l'arma sul territorio reggino. Riguardo infatti al contrasto alla coltivazione illegale della cannabis, le operazioni di servizio hanno permesso di rinvenire 54 piantagioni per un totale di oltre 71.000 piante, arrestando 40 persone in flagranza e segnalandone 8 a piede libero. Sono stati rinvenuti 10 bunker e 2 rifugi in mirate operazioni di servizio nella provincia, che hanno portato all'arresto di 4 persone al deferimento in stato di libertà di 11. Il comando provinciale di Reggio Calabria insomma ha fornito un contributo rilevante anche per fronteggiare le esigenze di ordine pubblico. Qualsiasi sforzo organizzativo sarebbe tuttavia stato vano se non fosse stato valorizzato dal fattore umano, ovvero da tutti quegli operatori che sono poi chiamati a dare attuazione pratica alle direttive operative. Nel contrasto alla criminalità organizzata, significativi sono stati poi i risultati ottenuti con le indagini concluse, Monopoli, Omicidio Canale, Ares, Iris, Teorema, Roccaforte, Via Colvento, Omicidio, Gioffre e Dirty Iron. Nel 2018 sono state arrestate 934 persone, tra cui 15 latitanti comuni, due inseriti nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità e denunciate in stato di libertà oltre 4.000 persone. Di 130 milioni di euro è invece il sequestro o la confisca di beni portate a termine nell'anno appena concluso. Incisiva non solo l'attenzione dei carabinieri nella provincia di Reggio Calabria, ma anche all'estero e nelle diverse ramificazioni dell'organizzazione criminale calabrese nel resto del paese. Importante provvedimento dei commissari a Marina di Gioiosa Ionica. Sono spesi alcuni esercizi commerciali per ingombro sulla marciapiede. Intimazione era avvenuta recentemente. Brutte notizie per sette esercizi commerciali di Marina di Gioiosa Ionica. La triade commissariale alla guida del comune della Loclide ha infatti ordinato l'immediata sospensione per 5 giorni dell'attività svolta dagli occupanti irregolari di suolo pubblico. Una decisione è arrivata dopo aver verificato l'andamento dei pagamenti dei tributi dovuti dalle attività commerciali presenti nel territorio comunale. Sotto la lente di ingrandimento della Commissione straordinaria sono così finiti tali attività di pubblico servizio. La notifica fatta recapitare ai titolari ordina la rimozione dell'illecito ingombro entro 48 ore dalla notificazione dell'ordinanza e specifica che in difetto si provvederà ad ufficio ad effettuare la rimozione, addebitando le spese sostenute al titolare dell'attività. Non solo, in caso di violazione dell'ordinanza il trasgressore verrà sanzionato secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia. Ai sette locali incriminati andrà tuttavia la possibilità di mettersi in regola attivando la procedura di pagamento degli arretrati e formulando una regolare richiesta di autorizzazione di occupazione di suolo comunale. Inoltre il personale della polizia locale, nonché tutti gli altri organi addetti all'espletamento di attività di vigilanza e controllo, tra cui anche tutte le forze di polizia sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza dell'ordinanza in questione. E l'attività di controllo agli esercizi commerciali prosegue a ritmo serrato sotto analisi, autorizzazioni e pagamenti. Un segnale forte alla cittadina, un pugno duro contro ogni forma di trasgressione. Questa mattina è la seconda giornata di distribuzione di abiti ai bisognosi in piazza a Caolonia da parte di Recosol. Proseguono le iniziative nella nuova sede di Recosol a Caolonia Marina, che la scorsa settimana ha visto la distribuzione dei vestiti che la società cooperativa Sankara ha ricevuto in donazione da un negozio di abbigliamento. Una distribuzione che ha avuto luogo anche questa mattina e ha continuato a dare la possibilità a persone che versano in condizioni di disagio economico di ricevere abiti assolutamente nuovi e con etichetta. La replica della precedente iniziativa è avvenuta in piazza Bottari numero 19, presente all'evento illegale rappresentante della rete dei comuni solidali, Giovanni Maiolo, che continua ad impegnarsi in molti altri progetti, non solo in Italia. Oggi a Caolonia prosegue l'impegno della rete dei comuni solidali attraverso la società cooperativa Sankara e la testata giornalistica Ciavola nei confronti dei soggetti più svantaggiati del nostro territorio, perché oggi replichiamo un'iniziativa che si è già svolta la settimana scorsa, venerdì scorso, durante la quale siamo riusciti a donare 9.500 Euro circa di vestiti nuovi e oggi stiamo replicando di nuovo questa iniziativa qui nella sede di Caolonia della rete dei comuni solidali, confermando il nostro impegno anche e soprattutto per il territorio, per le persone più disagiate e non solo attraverso il nostro impegno storico che è quello della cooperazione internazionale, che comunque continuiamo a fare, continuiamo a svolgere, ma crediamo che sia importante in un momento di grande crisi sociale ed economica provare in qualche modo a sostenere le persone meno ambienti. Questa è una delle modalità che abbiamo messo in campo, ma nei prossimi mesi svolgeremo altre iniziative solidali rivolte a più o meno allo stesso target di persone, ma speriamo di poter collaborare anche col distretto socio-sanitario per realizzare altri progetti che sono già in cantiere. Attualmente la rete dei comuni solidali è impegnata su molteplici fronti, sono ancora attivi i nostri progetti di cooperazione allo sviluppo in diversi paesi del sud del mondo, in particolar modo in Africa, in Niger, dove ci sono dei progetti che stiamo per implementare, i nostri volontari nel mese di febbraio partiranno per il Niger, dove abbiamo più progetti, differenti progetti, in Senegal, in Mali, in Peru, ma siamo anche molto soddisfatti perché recentemente siamo riusciti a costituire l'associazione solida, ossia la prima rete europea di comuni solidali che coinvolge diversi comuni di alcuni stati membri dell'Unione Europea e il cui presidente è stato eletto proprio in Italia ed è Salvatore Fuda, il sindaco di Gioiosa. Domani nel Salone della Biblioteca Comunale di Caolania Marina, alle 10.30, terremo una conferenza stampa insieme al sindaco sospesso di Riace, Domenico Lucano, per informare sulla nascita di un comitato promotore che creerà una fondazione per Riace che si occuperà di far ripartire i progetti di accoglienza, i progetti di turismo solidale senza l'aiuto dello Stato, visto che lo Stato ha deciso che quel modello, il modello di Riace, ma anche il modello che è stato poi esportato in altri paesi d'Italia dell'accoglienza diffusa debba essere cancellato e lo ha previsto attraverso il decreto immigrazione e sicurezza. Noi crediamo invece che sia importante dimostrare che le migrazioni possono essere gestite in un altro modo, in un modo che sia solidale, che sia umano e che porti benefici per gli italiani e il territorio che accoglie. Continua i nostri progetti in Piemonte, a Bardonecchia, a Venaus e continua a crescere l'adesione alla rete, oggi siamo a 270 comuni, negli ultimi tempi hanno aderito l'ottavo municipio di Roma Capitale, hanno aderito alcuni comuni della Sardegna, un comune Ligure e stanno per aderire altri comuni, c'è molta attenzione intorno alla nostra associazione, ma a Recosol possono aderire anche associazioni di volontariato e cooperative che si occupano di migranti, che si occupano di assistenza alle persone bisognose, che si occupano di cooperazione e anche da questo fronte stiamo vivendo una forte crescita e una forte espansione. Lavori di messa in sicurezza necessari alla Tonnara, sentiamo quali problemi hanno causato le intemperie. Le piogge autunnali per la Tonnara di Palmi erano state devastanti, smottamenti, allagamenti vari, frane e sono stati una piaga per tutta la zona di Taureana. Ora l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Ranuccio corre ai ripari. La messa in sicurezza dei quartieri periferici e costieri sostiene e tra le priorità assolute della nostra amministrazione. Stiamo lavorando affinché i disagi dovuti dalle piogge non si debbano mai più ripetersi, ma quali sono questi lavori su cui il sindaco ha avviato e intende avviare nuove procedure. Alcuni lavori di recente hanno riguardato il potenziamento dei sistemi di drenaggio delle acque piovane in tre aree importanti. Parallelamente, ha spiegato Ranuccio, stiamo intervenendo anche a monte del problema al fine di evitare l'incanalamento delle acque meteoriche e il loro conseguente accumulo nelle aree di costa. Abbiamo realizzato, sottolinea il primo cittadino, altri importanti interventi mai effettuati in passato, che aiuteranno ad evitare gli allagamenti e i problemi ad essi conseguenti. I lavori in questione si sono protratti per più tempo del previsto, ma al netto di qualche contrattempo abbiamo deciso di operare con la massima scrupolosità nell'interesse della popolazione per essere certi che tutto fosse realizzato nel miglior modo possibile. L'agenda al Cineteatro Nuovo Siderno, Aquaman, con proiezioni ore 17, 19, 30 e 22, al cinema invece Vittoria Sala Blu di Locri, Aquaman con proiezioni 17, no anche qui ore 22 in 2D e alle 19, 30 in 3D. Poi andiamo al Cine Vittoria Sala Rossa di Locri, la Befana Vien di Notte, proiezioni alle 19, 20 e 30 e 22. È visitabile fino a domenica 13 di gennaio a Gioio Saionica, presso via Luigi Settembrini, la mostra del mio presepe di Gino Maggio. Sabato 12, ore 17, nella Sala Dunanze di Palazzo Amaduri, Gioio Saionica, il Club Berlunesco organizza una serata dedicata all'alta cultura, con la presentazione del libro dell'onorevole Natino Aloi. Domenica 13, ore 18, Sala Mondadori, Bookstore di Siderno, centro commerciale, presentazione del romanzo di Luca Bianchini, So che un giorno tornerai. Si trarà sabato 19 di gennaio, alle 17.30 a Siderno, presso il Grand Hotel Presidente, il convegno di battito, nuova carta dei diritti della bambina, educare alla parità e dal contrasto della violenza. Fino al 28 di gennaio, Museo Civico di Taverna, si trarà la mostra d'arte contemporanea, Natività 2.0, la nascita di Cristo, riletta oggi, la mostra unica nel suo genere e curata da Bruno Bevacqua e Giuseppe Valentino. Andiamo a leggere i titoli delle principali testate calabresi. Prendiamo la linea per la lettura dei titoli dei quotidiani calabresi, iniziamo da Gazzetta del Sud, titoli sottotestata, i piromalli sapevano delle indagini su di loro, la cosca di Gioia Tauro e i suoi rapporti con le istituzioni deviate. Ancora altro titolo, sottotestata, la mezza terma e l'avvocato ucciso nello scontro fra clan, raffica di arresti. Al centro di Gazzetta del Sud, la faida di Siderno, Cosimo Commisso, scarcerato al termine del processo di revisione, era all'ergastolo, assolto dopo 26 anni, arrestato nel 1993, venne condannato come mandante di 5 omicidi. La fotonotizia con il calcio che si chiude l'era della famiglia praticò Regina Luca Gallo e il nuovo proprietario. A spalla di Gazzetta, a Reggio, il centrodestra ad Anna Nucera, dimissioni e poi sanità calabrese, il nuovo commissario proroga per due mesi i contratti con i privati. Ancora a Reggio, animatore 24enne, muore annegato in un resort africano. Careri, consiglio comunale sciolto per presunte infiltrazioni mafiose. Ancora qui un articolo al centro, salvati in Calabria, 50 migranti kurdi, soccorsi da cittadini dopo che la loro barca si era arenata sulla costa crotonese. La chiesa valdese ospiterà i 10 profughi della Sea-Watch, destinati al nostro paese. Andiamo al quotidiano del sud, con in alto la sanità Coticelli, primo atto, scura bocciato sui privati, la spesa sarà rimodulata. Far West, a Crotone, trovata l'auto colpita nell'agguato. A bordo c'era un ancapo ultra. Drangheta, la scia di sangue dei clan del Reventino, in manette i gruppi della Scalise e dei Mezzatesta. 12 fermi. Gratteri, attorno agli indagati ci sono i mandanti del delitto paglioso. L'avvocato fu sequestrato, portato incappucciato in un bosco e minacciato. La fotonotizia, migranti naufraghi salvati da cittadini a Torre Melissa e accolti in un hotel. Al taglio medio, Reggio, carabinieri ancora più vicini ai cittadini. L'arma ha fatto il punto sulle attività del 2018 in tutto il territorio provinciale. Il comandante battaglia, numeri altissimi dei servizi resi, ma vogliamo ancora crescere. Ancora in basso, Cosenza ha premeditato il calcio all'arbitro 5 anni di squalifica a mano pesante del giudice sportivo. Neve e gelo in Calabria. Eccoci allo spazio meteo. Sentiamo quanta neve e quanto gelo oggi in Calabria. Un flusso di correnti fredde di matrice balcanica mantiene attiva una certa instabilità sulla Calabria meridionale, specie nella serata. Piogge e nevicate saranno ancora possibili su queste zone con quota neve intorno ai 600-700 metri. Il tempo sarà più soleggiato sulle altre zone della Calabria. Temperature in ulteriore calo su valori sotto le medie tipiche del periodo. Venti tesi settentrionali, mari mossi o molto mossi, soprattutto i canali e lo ionio all'argo. E' tutto per questo giornale ma rileggiamo i titoli che abbiamo usato per questa edizione. Grazie. Cosimo commisso dall'ergastolo alla scarcerazione, assolto dopo 26 anni dopo 5 omicidi relativi alla faida di Siderno. Altro provvedimento del consiglio dei ministri sciolto il comune di Careri. Presunte infiltrazioni mafiose anche qui. Ponte Allaro, tavolo tecnico. Ecco come si procederà. Il guado è quasi pronto. Intervento del prefetto di Bari al giornale. Marina di gioiosa ionica. Sospensione dell'illecito ingombro. Sospese per 5 giorni alcune attività commerciali. Neve e gelo. Sorridono solo gli albergatori invernali. Scuole e università chiuse in Calabria. Carabinieri più vicini ai cittadini. Report dal comando provinciale di Reggio Calabria della Benemerita.